Io vi attacco direttamente al discorso del collega Matteo di UOM Edizioni, con cui stiamo conducendo ormai da un po' di tempo un tavolo di lavoro in seno all'Associazione di Editori Indipendenti Italiana, proprio su questa cosa che noi chiamiamo distribuzione, mi collego anche per non ricalcare le cose che hanno detto Francesco e Ilaria, perché effettivamente noi dobbiamo sapere in che maniera viaggia questo libro, perché che vuol dire la distribuzione? Semplicemente noi che mandiamo i libri a un luogo fisico, questo quale porta le librerie, banalmente uno potrebbe dire che la cosa può essere semplificata così, però c'è un problema. Io vorrei concentrarmi sia sulle due maggiori strutture, che sono Ali e Messaggerie, cioè anche in che modo queste due società stanno avendo un ruolo assolutamente predatorio all'interno della filiera del libro. E con assolutamente predatorio io intendo letteralmente questo. Oltre alle cose che sono state già dette, noi dobbiamo pure considerare che questi tentacoli si stanno allargando, si stanno allargando proprio utilizzando questo strumento del credito. Infatti, sempre di più, dicevo, sempre maggiormente queste due strutture stanno acquisendo i loro clienti, come lo stanno facendo? Utilizzando la chiave del credito e presentandosi come salvatori. Esemplice, facendo un esempio banale. Libreria indipendente di Padova si serve con messaggerie, si serve con i grandi gruppi, perché deve avere... facciamo a cambio? Perché deve... Scusate. Perché deve avere libri di editore, di FQ, di uomo, eccetera. E li vuole avere... prendi questi libri, chiaramente li vengono fatturati e a un certo punto tra resi, restituzioni, viaggi, colli... e vedendo, negli anni si sviluppa un credito verso il distributore. Ehm... è divertente questa cosa. Esatto, poi tocca a te però. Ehm... Succede che a un certo punto questo credito... il distributore si presenta alla libreria in forma di salvatrice, perché dice, ok, libreria X, negli anni hai sviluppato 28.000 euro di credito, ce l'hai... Eh, non ce l'ho 28.000 euro, 28.000 euro sono tanti. E allora il distributore dice, va bene, facciamo così, io ti annulo il credito ma mi dai il 15% della tua libreria. E questo gioco passa degli anni fino a che il distributore prende il controllo definitivo della libreria con una percentuale che diventa non superiore al 51% spesso. Molte librerie che noi consideriamo indipendenti sono in realtà librerie da catena nascoste da librerie indipendenti. C'è un caso, uno dei più spettacolari è verso a Milano, una libreria tra le più note, tra quelli ex indipendenti meneghine che è passata sotto il controllo di... La stessa cosa sta accadendo con molte case editrici. Quindi l'atteggiamento non è soltanto di controllo sul margine del singolo libro, questa è una strategia che sta venendo praticata con una certa continuità, con una certa sistematicità e che in questo momento si sta estendendo anche fuori dall'Europa per questi gruppi mondatori, ha da poco rilevato alcuni dei principali gruppi dei Balcani e Greci. Quindi è proprio un sistema che si sta portando avanti. Ma non solo, la filiera editorale parte da prima, parte dalla tipografia, parte dai dati. Quanti di voi sanno che gioco economico c'è dietro la gestione dei dati, dei libri? E' un gioco pazzesco. Noi editori paghiamo i dati che noi, in teoria, diamo, riguardo ai nostri libri, sempre, in questo caso, il monopolio è uno, è messaggerie, lo paghiamo quattro volte. Che cosa vuol dire questa cosa? Lo so che adesso entro un po' nel tecnico, mi dovrete perdonare, però cercate di seguirmi. Ogni volta che esce un nuovo libro, qualche mese prima, io devo scrivere una scheda editoriale, vado sul sito SBN o sul sito di informazioni editoriali, metto il titolo, il sottotitolo, l'autore, la quarte copertina, eccetera. Io l'SBN lo compro, costa pochi euro, cioè si comprano a lotti, compro 100 SBN, 1000 codici, quindi l'ho pagato. Per far sì che questi dati siano inseriti all'interno del circuito bibliotecnico, io devo pagare. Pago un'azienda che si chiama Informazioni Editoriali, che è posseduta al 100% da messaggerie. L'ISBN è posseduta dall'Associazione Editori Italiani, il cui consiglio di amministrazione è formato da quelli dei messaggeri lo stesso, messaggeriali. Questi dati poi vengono inseriti in un circuito, che si chiama RENAPIU, che è una piattaforma che fa girare questi dati. Indovinate di chi è? Questa infrastruttura serve dei software che vengono chiamati software gestionali, che quando voi andate nella libreria, quello scrive il vostro libro, uno cerca un libro di cronaghe ribelli e quello sta lì. Il software gestionale paga, versa dei soldi, paga un abbonamento annuale ad RENAPIU e a Informazioni Editoriali per far sì che l'ibraio gli compaia sullo schermo tutta la scheda dei dati che io ho venduto Informazioni Editoriali, quindi l'abbiamo già pagato, è già la terza volta che paghiamo. Il gestionale ha un costo in sé, è un software. Il principale gestionale italiano, Infolibri, da chi è stato comprato? Da Esagerino. Brava! Quindi, ma non solo, anche lo Stato italiano paga. Paga l'OPAC, quando andate in biblioteca, farete le vostre ricerchine, no, non voglio minimizzarle, scusate, quando dovete fare la tesina, dovete fare la tesi di laurea, quindi vi serve quel libro che cercate sul sito dell'OPAC, quell'operazione viene pagata con le nostre tasse, con le tasse di tutti, insomma, lo Stato italiano, direttamente nelle casse di messaggerie. Però il rapporto incestuoso tra queste società in realtà è ben più stretto, perché effettivamente noi andiamo, insomma, questa ricerca che stiamo facendo insieme a Matteo ed altri soci della DEI, abbiamo notato dei movimenti finanziari un po' strani, movimenti in cui ci sono versamenti di informazioni editoriali verso Arianna, di Arianna verso il mondo libri, infolibri, infolibri verso SBN, viceversa. Quindi la battaglia, vi faccio questa cosa dei dati che immagino voi avrete trovato noiosissimi, ma è soltanto un esempio per capire a che livello stiamo giocando. I libri non c'entrano più in niente, queste sono semplicemente operazioni finanziarie, sono pacchetti di possibili introiti prevedibili, prevedibili perché, come diceva prima Francesco, più o meno ogni anno tra i 70 e i 80 mila euro escono fuori e siccome la sappiamo quanto bisogna pagare per ogni singolo libro, cioè 5 euro in informazioni editoriali, 1-2 euro per gli SBN, eccetera, in realtà sono entrate altamente prevedibili e che fondamentalmente sono a costo zero. Questo è soltanto un esempio, operazioni simili abbiamo notate nel settore tipografico, nel settore librario, già ve ne abbiamo parlato prima, con l'acquisizione predatoria sta succedendo la stessa cosa con le case editrici indipendenti che stanno praticamente mangiando. Ah, altra cosa che mi sono scordato, i librai che fine fanno, quelli che vengono acquisiti, mi vengono fatti dei contratti, tempo determinato, e poi vengono cacciati via da quando finisca il contratto. Quindi tu hai anche l'illusione non solo di essere salvato, sei pure contento o contenta perché c'è uno stipendio, cioè finalmente faccio i librai e mi pagano pure, eh sì, però poi scade il contratto e te cacciano via, come già è successo in varie occasioni. Proprio tre giorni fa, in un pranzo insieme a Anna Parisi, ex consigliera dell'Associazione Librae Italiani, mi è stato fatto notare, da appunto Anna Parisi, che le ex librerie indipendenti entrano all'interno delle associazioni librai, sia territoriali che nazionali, e ne stanno assumendo il controllo. Come fanno? E' semplice. In teoria, ogni realtà libraia ha diritto a un voto, ma se le varie librerie che sono comunque controllate da messaggerie, da mondatori, da quello che volete, si presentano come le librerie indipendenti, effettivamente abbiamo situazioni in cui messaggerie ha 7, 8, 10, 15 voti nelle varie città. a nazionale, chiaramente salgono questi numeri, e quindi si sta proprio occupando, si sta acquisendo il controllo politico della politica editoriale, non solo quello economico, che già c'era, ma proprio anche quello politico, quello delle decisioni. Che ripercussioni ha cascata questa roba? Beh, quando si fanno le leggi sui libri si chiamano dei consiglieri, dei consulenti, e questi consulenti vengono dall'associazione di settore, vengono da noi come editori, vengono da Ali, e quindi una legge elaborata da una consigliatura formata, da una percentuale rilevante, da messaggerie. Che forma potrà avere? O da mondatori, che forma potrà avere? Una situazione in cui editori e librerie indipendenti vengono continuamente acquisiti, partendo da piccole percentuali societarie, nel lungo termine, che situazione, che arcipelago di bibliodiversità creerà? Ecco, questo non è che è un attacco all'indipendenza, perché immagino che a mondatori e messaggeri fanno un gran cazzo da bibliodiversità, per loro noi siamo pacchetti azionari che camminano. Però effettivamente, all'indipendenza, cioè, si ho la mia possibilità di scrivere sui social bestemmi e parolacce, cosa comporta? E, vabbè, non so tanto, a parte questo. Grazie. 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 Grazie.